Procede spedita l'attività dell'amministrazione comunale retta dal sindaco di Castellabate Costabile Spinelli. Ci sono molte novità per il nostro comune, dichiara il primo cittadino. Castellabate sta crescendo dal punto di vista urbanistico e dello sviluppo dei servizi sul territorio. Noi stiamo andando avanti con una serie di cose importanti, ad esempio in questi giorni pubblicheremo una manifestazione di interessi per quanto riguarda la realizzazione del centro servizi e il cineteatro. Poinvolgeremo gli operatori, le attività, perché prima di partire abbiamo interesse, abbiamo manifestazioni di interessi che si sono fatte avanti, soggetti interessati. Vogliamo prima però di predisporre questo bando capire la reale esigenza, quindi anche in termini di servizi da parte degli operatori. Quindi a questo bando ognuno si potrà fare avanti, non è vincolante, perché vogliamo, proprio per calibrare un bando, ma d'altra parte è una previsione di legge, proprio per calibrare il bando a quelle che sono le esigenze, capire quante di queste superfici possono essere ricollocate sul mercato, sul tessuto di Castellabate. Quindi chi ha esigenza ad avere uno spazio per un'attività commerciale, un laboratorio, qualsiasi altra cosa, può in questo momento, a questo bando, manifestare la propria volontà, ripeto, non vincolante, in maniera tale che andremo a calibrare il bando successivo su quelle che sono le richieste, le esigenze che perverranno dal territorio. E quindi stiamo rimettendo in moto questo percorso che credo, insomma, entro l'estate ci dovrebbe portare anche ad emettere, ad emanare un bando per la realizzazione di questa opera importantissima. Invece dal punto di vista urbanistico ci sono lavori in corso? Lavori fra poco, fra poco siamo in attesa di ultimi dettagli perché consegneremo a breve i lavori per la realizzazione di un polo scolastico, e quindi un polo sportivo scolastico perché abbiamo completato tutte le fasi, gara di appalto, quindi diciamo siamo in procedura di arrivo, siamo addirittura di arrivo per la consegna dei lavori che credo che, verosimilmente, credo nella prima settimana di marzo, nelle prime due settimane di marzo faremo la consegna dei lavori di questa opera importantissima, tanto attesa, cioè una nuova scuola significa realizzare uno sviluppo anche urbanistico del territorio, far crescere e quindi delocalizzare, togliere le scuole dal contesto nel quale si trovano in questo momento, quindi portarle all'esterno, diciamo, avere maggiori spazi, migliore viabilità, parcheggi, un aspetto sportivo importante anche per questa scuola, perché verrà un vero e proprio palazzetto, per cui avremo anche la possibilità di mettere a disposizione dei ragazzi, ma delle associazioni sportive anche una struttura importante.